Simona Marpezzi può svolgere questo ruolo. Non sono d'accordo per chi sostiene che in quel posto ci deve andare una donna, chiunque sia. Non fa parte del mio ragionamento e del mio modo di essere. Eppure in questi giorni qualcuno me l'ha detto, ma guarda Andrea, chiunque sia e chiunque sia, no. Noi abbiamo bisogno di qualità, abbiamo bisogno di donne e di uomini capaci che abbiano le esperienze, la profondità e la visione necessarie per svolgere un ruolo così delicato.